La giunta regionale si è riunita a Palazzo d'Orlean per la prima volta dopo la tragica scomparsa dell'assessore Beni Culturali. Tornano gli esuberi al call center Almaviva, accordo nella notte a aziende e sindacati per nuovi incentivi all'esodo a Palermo. Presentata stamattina a Villa Niscemi a Palermo, la Strapalermo Corri Strapapà 2019 che si svolgerà il prossimo 24 marzo. Buonasera e bentrovati alla prima edizione di Media News di giovedì 14 marzo. Come avete sentito dai titoli, la giunta regionale si è riunita a Palazzo d'Orlean per la prima volta dopo la tragica scomparsa dell'assessore Beni Culturali Sebastiano Tusa. Il governo ha deciso di approvare le ultime proposte avanzate da Tusa nelle scorse settimane. La giunta regionale si è riunita a Palazzo d'Orlean a Palermo per la prima volta dopo la tragica scomparsa dell'assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa avvenuta nell'incidente aereo di domenica scorsa in Etiopia. In apertura della seduta, presieduta dal vicepresidente Gaetano Armao, vista l'assenza del presidente Nello Musumeci, ancora convalescente dopo un piccolo intervento chirurgico, l'archeologo è stato ricordato con un commosso minuto di silenzio, al posto che l'assessore normalmente occupava nella sala di giunta un mazzo di fiori. Quindi il governo regionale ha deciso di approvare proprio le ultime proposte avanzate da Tusa nelle scorse settimane. Con la prima delibera è stato deciso di finanziare, con 5 milioni di euro del patto per il Sud, sei interventi di risanamento e valorizzazione di alcuni edifici dell'isola. In particolare, circa 2,6 milioni di euro verranno utilizzati per il castello di Mare Dolce a Palermo, restauro dell'edificio del complesso, realizzazione di una piazza nell'area antistante e sistemazione del parco. Gli altri 2,4 milioni di euro sono destinati invece alla manutenzione straordinaria delle coperture, al restauro dalle superfici colorate e al trattamento dei soffitti del Duomo di Monreale. Il governo musumece ha dato il via libera anche a due disegni di legge proposti in precedenza da Tusa, che modificano la precedente normativa sul Consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici, legge 80 del 77 e sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia, legge 20 del 2000. Tornano gli esuberi al call center Almaviva, accordo nella notte tra aziende e sindacati per nuovi incentivi all'esodo a Palermo. Dopo una riunione fiume, i sindacati delle telecomunicazioni hanno siglato ieri sera l'accordo su Almaviva Contact di Palermo, che prevede un altro ciclo di ammortizzatori sociali al 35%, formazione e incentivi all'esodo. L'obiettivo è prolungare gli ammortizzatori sociali per far fronte alla criticità che ha investito e continua ad investire il settore dei call center. L'azienda si è presentata all'appuntamento con i sindacati nella sede di Sicindustria, con una nuova proposta rispetto a quella sottoscritta poco tempo fa. Almaviva soffrirebbe dettagli e volumi di traffico. Al momento, sul sito di Palermo, si registra la proroga di quattro mesi della commessa all'Italia, sul cui futuro non vi sono ancora certezze, mentre continuano a persistere contrazioni significative di volumi sulle commesse Wind e Team 119. Motivi che hanno indotto l'azienda a chiedere il ricorso agli ammortizzatori sociali fino al 30 giugno, con una percentuale media del 35%, con picchi massimi del 40%. Dal 20 marzo al 16 aprile con il Fondo di integrazione salariale, mentre dal 20 aprile al 30 giugno attingendo alla Cassa Integrazione Inderoga. Nella finestra temporale che va dal 16 al 20 aprile verranno effettuati gli esodi incentivati, mediante licenziamento non appositivo che garantisce l'accesso alla NASPI. I lavoratori interessati, circa un centinaio, potranno scegliere tra due modalità di incentivo, o il pagamento immediato all'uscita del mancato preavviso, più due mensilità, oltre 500 euro della conciliazione, ovvero il versamento degli importi, 10.000, 15.000, 20.000 euro in base al profilo orario, interrata in 24 mesi. Il repentino cambio di scenario e l'assordante silenzio delle istituzioni ci obbliga a misure difensive al fine di garantire la continuità occupazionale del sito palermitano di Almaviva e riportare al centro dell'agenda politica del Paese le problematiche del settore dei call center, scrivono le segretarie provinciali e le RSU di SLC-CGL, Fistel-CIS, Wilcom-Wheel e UGL, investito da pesanti arricature tecnologiche e da una carenza di regole che fino ad oggi non hanno saputo garantire un rapporto corretto tra committenti, outsourcer e processi di delocalizzazione. Episodi vandalici ripetuti nel terreno dove a Brancaccio sorgerà l'asilo nido sul progetto del centro Padre Nostro, fondato da Dompino Puglisi. Noi portiamo avanti l'opera del Beato Giuseppe Fuglisi, il nostro fondatore, rispondendo a quelle che sono poi le necessità e le esigenze che via via si vanno profilando e cercando di realizzare quelli che erano i suoi sogni perché Padre Puglisi è stato molto lungimirante, aveva individuato le necessità, le problematiche del quartiere e aveva già in mente come risolverle. Tra queste necessità naturalmente quelle legate all'infanzia, ai servizi per l'infanzia erano estremamente significative sia allora che oggi. E di pochi giorni fa l'ultimo degli episodi sconcertanti nei vostri confronti? Sì, devo dire che questa è un iter cui siamo purtroppo abituati quando attiviamo nuove progettualità. È successo per questo terreno che è stato diverse volte vandalizzato, oggetto di irruzioni e di infrazioni, è successo per il terreno dove sorgerà la Gora di Brancaccio, è successo in passato per il centro polivalente sportivo che ad oggi è attivo e conta durante l'anno circa 7.000 accessi, quindi ormai le persone hanno capito che quello è un servizio per loro. Noi crediamo che il privato sociale possa fare quello che è nelle corde e nelle competenze del privato sociale e riteniamo invece che le istituzioni debbano in integrazione con le forze sane del territorio svolgere il loro ruolo istituzionale, quindi noi chiediamo la presenza di tutti coloro che per i loro compiti e le loro funzioni sono titolari di quest'opera di riqualificazione, quindi i privati e le istituzioni. Dobbiamo ricordare concretamente cosa è successo qua? Allora il catenaccio che chiudeva il cancello è stato diverse volte reciso, è stata posta una sedia laddove c'era la pedana per le autorità per la cerimonia di donazione, è stata successivamente bruciata, sono stati scaricati dei materiali di scarto, insomma le infrazioni sono state numerose. Il centro padrenostro si impegna tanto per la nostra circoscrizione, per il nostro quartiere, purtroppo c'è ancora qualcuno o in questo caso gli atti vandalici di questo ambito, di questo terreno dovrà sorgere l'asilo, parliamo di ragazzetti, ragazzetti che purtroppo non riescono a percepire che l'asilo, in questo caso non appena verrà realizzato, è futuro anche per loro, futuro di questi bimbi che vivono nel quartiere, bimbi che in questo momento sono più che altro amareggiati perché in questo ambito realizzavano la cosiddetta vampa di San Giuseppe, vampa che ovviamente con il realizzarsi del progetto non potrà più essere effettuata qui. 11 milioni alle scuole con Leggo al Quadrato, l'assessore e la galla, più competenze e meno dispersione scolastica, vediamo. In arrivo 11 milioni di euro per le scuole siciliane, è stata pubblicata oggi la graduatoria definitiva della terza edizione di Leggo al Quadrato, interventi per l'inalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana che mette a disposizione 6 milioni di euro. Contemporaneamente è stata resa nota anche la graduatoria provvisoria della quarta edizione che assegna ulteriori 5 milioni di euro alle scuole elementari e medie, licei artistici, agli istituti tecnici e professionali associati in 31 reti scolastiche. Innalzare il livello di competenze e coinvolgere in attività extracurriculari i ragazzi per contrastare la dispersione scolastica, questo è l'obiettivo del bando che, spiega l'assessore al ramo Roberto Lagalla, edizione dopo edizione, stiamo continuando a portare avanti grazie alle risposte positive provenienti dagli istituti scolastici. In particolare l'intrattenimento in tempo d'estate, novità di quest'ultima edizione, una richiesta sollecitata da molte scuole e sarà una prima sperimentazione che spero possa aiutare gli studenti a vedere il proprio istituto sempre più come un punto di riferimento non solo per gli studi ma anche per il proprio percorso di crescita personale. L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di azioni volte alla riduzione delle disarmonie nei livelli di sviluppo del territorio regionale e in particolare metta al centro degli interventi le scuole con sede negli ambiti territoriali individuati come a rischio per condizioni socio-economiche e tasso di abbandono scolastico. Altre novità riguarda le azioni che potranno essere avviate che, oltre a promuovere il potenziamento dell'apprendimento dell'italiano e della matematica, saranno volte all'insegnamento delle lingue straniere, alla valorizzazione della storia e del patrimonio linguistico siciliano, all'educazione alimentare e motoria, alla cittadinanza attiva. A questo si aggiungono ore dedicata all'orientamento post-scolastico, alle arti creative, allo sport, alla musica strumentale e per la prima volta all'intrattenimento in tempo d'estate, iniziativa mai realizzata fino ad oggi per gli istituti pubblici. Molti dei nuovi progetti poi promuovono attività rivolta all'inclusione sociale, alle arti creative, alla sperimentazione di nuove competenze, alla formazione civica dei ragazzi. Inoltre, come nelle precedenti edizioni, le scuole partecipanti potranno usare una parte del finanziamento per l'acquisto di arredi scolastici, di attrezzature informatiche e laboratoriali, migliorando così la qualità dei servizi a disposizione dei ragazzi. Si chiama Friday for Future, il movimento che sta facendo parlare di sé sul web e che domani 15 marzo porterà milioni di studenti a scendere in piazza in tutto il mondo all'insegna dell'ambiente, del rispetto e della natura. Obiettivo? Politiche immediate per porre un freno al cambiamento climatico. Iniziamo col dire che sarà un nuovo 68 dell'ambiente, dell'ecologia, del mondo verde e del rispetto della salute e dei diritti degli esseri viventi, non solo umani, non solo uomini, donne, animali, pianti, alberi, aria, acqua, pesci. È un 68 epocale. Come nasce? Una piccola premessa, gli accordi di Parigi, prima Chioto, c'è ancora qualcuno che ferma Chioto, Chioto, poi Coppi, eccetera. A un certo punto questa ragazza, Greta Thunberg, sedicenne, stanca delle mancate risposte, delle bugie degli uomini politici, si presenta davanti al Parlamento svedese con un cartello e incomincia lo sciopero di venerdì per difendere l'ambiente, difendere la salute. E accusa, mette i politici, sia quelli svedesi che sono in effetti all'avanguardia comunque su tantissime cose, tant'è che i verdi sono il primo partito nel nord Europa, di fronte alle loro responsabilità. La ragazza non chiede attenzione, pretende, perché dice voi siete in ritardo, voi non avete fatto assolutamente niente per rispettare gli accordi internazionali e io sciopero contro la vostra inconsistenza, contro la vostra disattenzione e contro le vostre responsabilità. È fatto il Friday, domani ci sarà il Mondial Friday Strike per l'ambiente e quindi da tutto il mondo si porta avanti questa manifestazione che è assolutamente non partitica, ma noi verdi a livello nazionale e europeo partecipiamo come cittadini, ma come movimenti e come cittadini che hanno diritto alla vita, alla salute, ai lavori nuovi perché non si può più sopportare che in Italia continuino a dare delle concessioni di trivellazioni, di usare soldi per usare da dare alle energie fossili, quindi petrolio, carbone e tutto il resto, ma vogliono un mondo nuovo, un mondo diverso. Io devo dire questo, che in Italia, in Sicilia in particolare, le scuole hanno formato dei giovani che sono giovani che hanno formazione perfetta per le nuove energie rinnovabili e quindi nuovi lavori, nuovi controlli, il recupero del territorio e quindi la vita. Situazione delle partecipate del Comune di Palermo e rivalorizzazione del fiume Oreto. Ne abbiamo parlato con Paolo Caracausi, consigliere comunale, presidente della Commissione Aziende. La situazione credo che sia sotto gli occhi di tutti, naturalmente ci sono delle difficoltà anche di natura economica perché almeno per quanto riguarda le trimestrali che ci pervengono in Commissione, ci sono delle negatività in RAP, in AMAP, eccetera. Abbiamo un problema di contrasto diciamo per quanto riguarda la vicenda delle caditoie tra la pubblica amministrazione e soprattutto chi si occupa di controllo analogo e l'AMAP. Domani tra l'altro la mia Commissione ha già incontrato i sindacati, incontrerà il dirigente per chiarire questa vicenda e mettere un puntino sulla I naturalmente del tutto. I nuovi presidenti stanno lavorando per cercare di migliorare i servizi, siamo ancora molto lontano da quelli che sono le richieste dei cittadini, però io sono fiducioso che riusciremo nell'intento. Naturalmente oggi c'è la novità che riguarda la presidenza dell'AMAP che naturalmente la presidente è stata chiamata dal sindaco a fare l'assessore, quindi aspettiamo che il sindaco si determini sul nuovo presidente, quindi vediamo chi sarà il nuovo management. Ripeto, la situazione non è semplice, però rispetto a chi dà allarmismi io mi sento di dare invece fiducia a chi sta lavorando e soprattutto a chi è determinato a dare delle soluzioni ai problemi. In Città c'è stato un bel movimento, un bel movimento che in qualche modo di affetto nei confronti del fiume Oreto e della sua rivalutazione. Sì, devo dire che sono contento, sono felice che oltre 80.000 persone hanno votato per il nostro fiume Oreto che come tutti sappiamo non è un fiume ma più che altro è una discarica, però il fatto che 80.000 persone hanno votato sui luoghi del cuore come un luogo importante per noi è determinante. Devo dirti che abbiamo coinvolto tutte le associazioni ambientaliste, proprio lunedì scorso abbiamo fatto un incontro in commissione da me, lo rifaremo nei prossimi giorni perché entro il 15 aprile verranno i delegati del FAI per decidere come questi, ancora non si capisce l'importo quant'è ma dai 40.000 ai 50.000 euro come dovranno essere spesi e quindi l'idea è quella della partecipazione di tutti per vedere dove andare. Dopodiché abbiamo un progetto già redatto dal Comune di Palermo al Stato Mare e Costa che dovrebbe andare a essere finanziato da una misura PON della Regione per 400.000 euro e anche quella l'andremo a definire e a vedere insieme alle associazioni ambientaliste. Io credo che stiamo facendo un bel percorso perché il fiume Oreto è l'inizio di un lungo percorso che riguarda tutta la riqualificazione della costa, l'Aggiunta ha già deliberato il nuovo PUDM che verrà in Consiglio Comunale che stabilirà, che è una specie di piano regolatore del mare, che stabilirà le aree come dovranno essere gestite e chi dovrà gestirle, se ci saranno aree naturalmente a servizio sia dell'abbalniazione ma naturalmente anche del verde. Anche lì si sta lavorando a tanto, c'è tanto da fare ma dopo tanti anni di abbandono credo che siamo sulla buona strada. Ficarra e Picone testimoniano della manifestazione in cammino lungo la Magna via Francigena organizzata da AISF per la sensibilizzazione sulla fibromialgia. Il duocomico ha sposato la causa e si è prestato ad uno spot al fine di far conoscere questa malattia caratterizzata da un dolore cronico diffuso che logora chi ne soffre. Carissimi amici e amiche, ciao a tutti da Ficarra e da Picone. Ciao. Siamo qui oggi per parlarvi di una manifestazione molto importante, in cammino sulla Magna via Francigena. Una manifestazione che è stata organizzata per sensibilizzare tutti verso una malattia importante. La fibromialgia. La fibromialgia è una malattia a molti sconosciuta, ahimè trascurata anche dalle istituzioni. Ebbene ci sarà questa marcia simbolica, questa camminata che partirà da Palermo il 27 aprile e arriverà il 5 maggio ad Agrigento per far sì che la fibromialgia da invisibile diventi visibile. E allora partecipate tutti numerosi. Ciao. A nome mio e a nome di AISPONLUS, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, ringrazio tutti gli enti, associazioni, istituzioni che con il loro patrocinio e contributo stanno permettendo la realizzazione di questo importante momento di sensibilizzazione sulla fibromialgia, ovvero il cammino sulla Magna via Francigena. Un cammino di nove giorni che collega Palermo ad Agrigento. Il cammino inizierà il 27 aprile davanti alla cattedrale di Palermo e concluderà il 5 maggio davanti alla cattedrale di Agrigento. Ringrazio in particolare il comune di Bageria col suo ufficio stampa che dal primo momento hanno sostenuto e sostengono questo evento, il comune di Palermo, il comune capofila di tutti i comuni che fanno parte della Magna via Francigena, tutte le associazioni, in particolare l'associazione degli amici dei cammini francigeni che ci sta supportando da un punto di vista logistico e tecnico nelle organizzazioni di tutto ciò e tutti gli altri enti, istituzioni che si sono messi a disposizione e stanno dando il loro contributo per realizzare tutto il cammino. Inoltre tengo a ringraziare in particolar modo i grandi Ficarre Picone che avendo saputo di questa iniziativa hanno voluto dare il loro contributo. Quindi ringrazio veramente tutti di cuore e vi invito a essere presenti, vi aspetto tutti quanti il 27 aprile alle ore 7.30 davanti alla cattedrale di Palermo per iniziare questo meraviglioso cammino. Grazie a tutti. Commemorazione al cimitero di Bageria in occasione del centenario della nascita dell'onorevole Peppino Speciale. La figura di Peppino Speciale va oltre i confini dell'appartenenza. Credo che quando qualcuno si deciderà a scrivere la storia di Bageria degli ultimi cento anni, io credo che un posto di rilievo l'avrà l'onorevole Speciale, Peppino per chi lo conosceva. Perché lui, pur essendo un uomo di partito, ha saputo svestire questa maglia e lavorare molto per la comunità di Bageria. Lui amava molto Bageria. Io credo che i cittadini di Bageria debbano sapere che se si sono realizzate alcune opere importanti a Bageria, lo si deve all'onorevole Speciale. Se i cittadini di Bageria si possono riscaldare in inverno col metano, lo si deve all'onorevole Speciale, che prima di tutti seppe capire l'importanza che poteva avere per lo sviluppo di Bageria e anche per le abitudini dei cittadini bagheresi. Come per esempio se c'è questa struttura che sicuramente non era quella che voleva l'onorevole Speciale ad Aspera. Lui per 70 anni si è battuto perché si potesse realizzare un porticciolo turistico ad Aspera. Le amministrazioni che sono succedute negli ultimi 50-60 anni non sono riuscite altro che produrre un approdo per fare riparare le barche. Così come su tante altre questioni. Per esempio mi riferisco alle case dei braccianti in via Nino Bixio. Per dire che lui svestiva i panni del meredante di partito e lavorava per gli interessi della città. La sua concezione della politica non era quella del mestirante della politica, era quello invece, spinto da una grande passione ideale e civile, lui considerava la politica un servizio per la comunità. Quando a Bageria, io dico in Sicilia, nessuno parlava di mafia, l'onorevole Speciale faceva le battaglie contro la mafia, a Bageria, ma non solo a Bageria. Ha insegnato qualcosa a ciascuno di noi, a chi aveva voglia di imparare, a chi aveva voglia di ascoltare le sue storie, di chi aveva voglia di seguire il suo esempio. Quindi ognuno di noi avrebbe individualmente da dire qualche cosa per esporre i motivi di questo ricordo. Io posso parlare di me. A me ha certamente trasmesso due cose fondamentali. La prima è un'idea della politica come cosa seria, come cosa che coinvolge moralmente, che coinvolge intellettualmente, come cosa che ti coinvolge in tutti gli aspetti fondamentali della tua vita. L'altra cosa è l'interesse che io ho appreso da lui nei confronti della storia della nostra gente, del nostro territorio, a cui poi mi sono dedicato per lungo tempo. Presentata stamattina a Villa Niscemi a Palermo, la Strapalermo Corri Strapapà 2019, gara che si svolgerà il prossimo 24 marzo. Vediamo. Ci auguriamo di andare al di là dei numeri che abbiamo registrato lo scorso anno. Considerate che lo scorso anno ci sono stati circa 15.000 partecipanti, perché il format è molto semplice. Il piccolino partecipa, la mamma e il papà lo può anche accompagnare lungo questo percorso. Si svolgeva il 24 marzo a Palermo. Vi invitiamo tutti. È una festa della città. Ringraziamo quelli che sono stati accanto a noi e voglio ringraziare un ente in particolare che è la Fondazione Teleton. Vi ricordo che parte del ricavato dell'iniziativa verrà devoluto in favore della Fondazione Teleton, in favore dell'attività di ricerca di Fondazione Teleton che è impegnata da quasi 30 anni Italia nella ricerca e nella prevenzione delle malattie genetiche rare. La manifestazione, visto che abbiamo avuto il grossissimo successo degli anni passati, prenderà nuovamente il via dalla via Gavur, zona Peltrinelli, si scenderà per via Roma, si prenderà tutto in controsenso via Roma, si arriverà fino in via Torino, si svolterà per via Macheda e si ritornerà. La strapapà verrà svolta soltanto con un giro e partirà alle ore 11, mentre due ore prima verrà fatta, come diceva Mimmo Totoro, la strapalermo che in poche parole è una podistica cronometrata aperta a tutti senza vincoli eccessivi di certificazione e robe varie e permetterà a tutti gli atleti di potersi cimentare in un circuito di tre giri da tre chilometri, centocinquanta metri, quindi nove chilometri e mezzo circa. Sono riuscito ad avere a noleggio questa macchina che è il ReWalk, che poi magari vi farò vedere e vi spiegheremo magari come funziona, che ci permette di ritornare a camminare. È stato un percorso molto bello anche perché è stato vissuto pienamente e mi ha regalato tantissime emozioni perché l'ausilio prevede che venga addestrato un cargiver, nello specifico in questo caso è stato mio figlio Nicolò che mi ha accompagnato durante tutto il percorso e non vi dico l'emozione stupenda di camminare assieme a lui dopo sei anni. Un appuntamento che sta dentro la ripresa da parte dei parlamentari della nostra città. Il 17 marzo inauguriamo Domenica Infavorita, che è una grande partecipazione dei cittadini, delle cittadine, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e Domenica 24 tutti a Strapapà. Anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alla seconda edizione di Media News.